Avete creato il benessere economico nei nostri territori e noi abbiamo un debito nei vostri confronti. Con questa motivazione, ragazzi di spazio giovani della BCC del Metauro hanno deciso di aiutare 13 case di riposo e residenze protette della stessa vallata. Ci siamo domandati cosa potessimo fare di utile per voi che state soffrendo in silenzio, si legge nella lettera consegnata con un dono, e ci è venuto in mente questo tablet. Sarà utile per trascorrere il tempo in maniera più allegra, magari videochiamando i vostri nipoti o figli o ascoltando la musica e, perché no, farvi vivere in maniera serena le imminenti festività. Oggi consegniamo questo dono alla casa di riposo qui di Terre Roveresche, proprio per ringraziare in nome di tutta l'associazione Spazio Giovani il supporto che hanno dato gli operatori ai nostri anziani e per questo abbiamo voluto regalare uno strumento che potesse avvicinare i nostri anziani in questo momento difficile con le proprie famiglie e con i propri cari. Una soluzione pur minima all'isolamento che soprattutto loro hanno dovuto subire, proprio per tutelarli, però diciamo che secondo noi l'hanno sofferta molto. Ad altre strutture, in base alle esigenze segnalate, sono stati consegnati saturimetri e smart tv. L'iniziativa proseguirà nei prossimi giorni. Questo gesto non ci fa sentire soli, ha commentato Lucia, direttrice della casa di riposo Merlini-Ciavareni-Doni. Sapere che dei giovani abbiano pensato agli anziani è un atto concreto di solidarietà intergenerazionale. Questo gesto che sia anche una piccola donazione ci fa, ci trasmette quella vicinanza che soprattutto agli anziani in questi mesi manca. Quindi l'affetto dei loro cari, manca un abbraccio, un bacio e quindi ogni iniziativa di solidarietà e anche ogni piccola donazione per loro è tanto e anche per noi. Quindi grazie da parte del personale, da parte degli anziani, da parte anche dell'amministrazione che rappresento come assessore. Quindi grazie a Samuele e a tutti i giovani di Spazio Giovani. Grazie. E alle sue spalle c'erano alcuni degli ospiti della struttura, usciti giusto il tempo per ringraziare i benefattori. Un gesto sincero e commovente, con un semplice sorriso e un saluto a distanza. Dopo queste belle parole di ringraziamento non posso altro che augurare a tutti gli ospiti delle case di riposo e anche ai soci clienti della Banca di Credito Cooperativo del Metauro un buon Natale. Grazie. Grazie.